Allora, problema tesser e problema del nostro precedente allenatore. L'anno scorso, l'ho detto più volte, non vi dimenticate che abbiamo subito sette partite di seguito, nelle quali abbiamo perso cinque volte e abbiamo fatto due parecci. Tutti volevano la testa dell'allenatore. Se avessi ascoltato la piazza senza conoscere le qualità dell'allenatore, eccellenti, avrei fatto un errore incredibile, mandando via Rastelli e prendendo un altro allenatore. Probabilmente non saremmo arrivati nei play-off, probabilmente non avremmo vissuto questo bellissimo sogno della semifinale, non avremmo fatto tutto quello di buono che abbiamo fatto l'anno scorso. Quindi voglio dire, credetemi, fate fare una valutazione a noi, se e quando dovrà succedere che andiamo a fare una valutazione sull'allenatore. Lasciatelo decidere a noi. Le dieci settimane che io ho detto, non ho detto dopo dieci settimane decido se prenderlo, lasciarlo e così via. Ho detto, ci sederemo tranquillamente, faremo una valutazione di quello che stiamo facendo in queste prime dieci domenze, dei risultati, prime partite, e andremo a valutare con lui se abbiamo la possibilità di migliorare, di cambiare, di fare qualche cosa di nuovo, qualche cosa di diverso, che lui eventualmente dovesse chiederci. Allora, questo fatto dei prestiti, e adesso non mi ricordo tutti i giocatori che in sequenza, ma faccio un esempio, Frattali è nostro, Girone è nostro, Visconti è nostro, Biraschi è nostro, Re è nostro, Nitriaschi è nostro, Nica è in prestito, uno, Ligia è in prestito, due, a centrocampo, Gavazio è nostro, Zito è nostro, Bastiene è nostro, Arini è nostro, D'Angelo è nostro, Scusate, ma sti prestiti che non stanno? Cioè, forse io ho capito male la domanda, di noi prestiti li stiamo parlando. Chiariamo anche una cosa, ma dai, vostro. Sì, Napolo, senza contare che in signe e in prestito sono tre, io parlo delle persone che giocano. Napolo non giocano. All'attacco, Trotta è nostro, Castaldo è nostro, Tavano è nostro, è nostro, perché l'abbiamo preso, l'abbiamo pagato, Tavano è nostro, Moculo è nostro. Scusate, vedo stante se volessi.